Bancarotta fraudolenta e reati tributari per evitare il pagamento delle imposte. Le fiamme gialle coordinate dalla procura hanno portato alla luce un sistema che garantiva a diversi gruppi imprenditoriali la possibilità di sottrarre imposte per oltre 220 milioni di euro. E tra gli undici indagati c'è Antonio Poiese, dottore commercialista, titolare di uno degli studi più affermati di Catania, padre dell'attuale sindaco Salvo. Secondo le accuse sarebbe uno dei tre professionisti per i quali il GIP ha ipotizzato il reato di Bancarotta. Antonio Poiese è fra le tre persone poste agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza. Nell'operazione di oggi sono stati sequestrati quattro marchi registrati e quattro complessi aziendali per un valore complessivo di circa 11 milioni di euro. Nell'ambito di questa operazione denominata Pupi di Pezza sono stati anche posti agli arresti domiciliari oltre a Poiese due suoi associati, Michele Catania di 53 anni e Salvatore Pennisi di 46 Poiese, Catania e Pennisi. Secondo l'accusa avvalendosi di Salvatore Virgilito di 66 anni, liquidatore fiduciario dello studio, anche gli arresti domiciliari costituivano un'associazione a delinquere, almeno dal 2013, dedita a commettere diversi reati in materia di diritto societario, fallimentare e fiscale. Arresti domiciliari disposti dal GIP anche per gli imprenditori Antonino Grasso di 54 anni, Giuseppe Andrea Grasso di 51, Michele Grasso di 58, Concetta Galifi di 39 e Rosario Patti di 79. Misura interdittiva ad esercitare il diritto di impresa per un anno per Alfio Sciacca di 67 anni e rinunziata Conti di 65.